weh e bella a tutti rega in questo video vi porto i primi glitch di questi dlc super swag super facile primo come potete vedere la god mod bastare avere un attico dentro il casino di qualunque tipo e entrarci quando vi farà quella schermata di scegliere dove andare basta che premete rotondo e sarete mortali il secondo glitch chiamiamolo glitch e qui dalla corsa dei cavalli è un po strano come glitch cioè va un po un po così a caso però alla fine l'ottanta per cento delle volte funziona basta andare in qualunque sportello scedere andare in gara singola scommetti e scommettere sempre sul primo cavallo sempre il primo scommettere sempre il primo cavallo mi raccomando ogni volta che vincete tornate indietro sulla schermata per scegliere la gara perchè se no sembra che tipo le percentuali si abbassano ancora di più tipo cominciano a funzionarvi cose del genere poi vabbè se cominciano a funzionarvi a caso poi vabbè uscite rientrate e riprovate scommettere sempre Grazie a tutti. Mi raccomando raga divertitevi solo con i vostri amici Con la god mod Perché poi rischiate che magari vi segnalano Vi chiudono il profilo E' un casino Invece con i soldi più ne fate meglio è Dai fatemi sapere nei commenti Quanti big money avete fatto Se vi è riuscito Non ti scherzi avete fatto i vostri amici E dai Bella a tutti E ci vediamo alla prossima Bella